Ecco, questa è un'ape. Le api sono degli insetti sociali, i menotteri, e sono divisi in caste. C'è la regina, le operaie e i maschi, detti i fuchi. La regina ha il solo compito di riprodursi. Una volta fecondata, deporrà le uova per tutta la vita, mentre le operaie hanno vari compiti, varie mansioni nell'alveare. Principalmente quello di approvvigionare l'alveare stesso, quindi portare il cibo e difenderlo da eventuali nemici e predatori. I maschi invece non partecipano alla vita attiva dell'alveare, vengono considerati quasi dei parassiti, hanno soltanto il compito di fecondare la regina vergine durante il volo nuziale. Per questo si radunano spesso in luoghi anche lontano dall'alveare e aspettano il passaggio di una regina da conquistare e fecondare. Le api sono degli insetti molto importanti perché sono degli indicatori biologici, ci indicano lo stato di salute delle zone in cui vivono. Purtroppo le api in questi ultimi anni sono calate notevolmente di numero e le cause sono quasi sempre dovute a una eccessiva e prepotente antropizzazione, come ad esempio i mutamenti climatici e l'uso indiscriminato di pesticidi e veleni vari. Sarebbe quasi giunto il momento di attuare dei seri piani di tutela del pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il momento di attuare dei seri piani di tutela del pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci. Sarebbe quasi giunto il pianeta, dei piani che devono essere tempestivi ed efficaci.